Sarà la proiezione in prima assoluta del docufilm Scorza Mauriello tra mito e leggenda giovedì 8 novembre alle ore 20 e 30 presso il Cinema Teatro Italia a chiudere il cartellone di appuntamenti dell'undicesima edizione della notte dello Scorza Mauriello, la ogni santi tutta ebolitana ispirata alla figura del magico folletto della leggenda popolare. Organizzata dall'associazione Le Tavole del Borgo con la collaborazione del comune di Eboli e del sostegno di Tecno Scuola, anche quest'anno la notte dello Scorza Mauriello ha riscosso grande interesse e tanta partecipazione. Il docufilm, scritto e diretto dall'ebolitano Luca Guardabascio, le cui riprese hanno preso il via lo scorso anno in occasione del decennale della notte dello Scorza Mauriello, contiene interviste ad artisti noti come Eugenio Bennato, Antonio Stornaiolo, Aldo Leonardi, Assunta Scalella, ma anche a tanti ebolitani che da testimoni della tradizione hanno raccontato davanti alla telecamera esperienze e aneddoti legati alla credenza popolare del folletto dispettoso, che da sempre anima i racconti delle nonne tra suggestione e folclore.